Per lunedì cinema, Baghdad Caffè. Ti compare davanti, non sai come, non sai da dove. Senza un'auto, senza un uomo, in mezzo al deserto, con una valigia piena di vestiti d'olio. È difficile amare ciò che non si capisce. Ma lei è troppo vera, troppo viva. E dopo di lei, niente a Baghdad sarà più come prima. Magia. Per la prima volta in televisione, Baghdad Caffè, lunedì alle 20.30, su Italia 1. Ma guarda là! Ma che cos'è? È una forza, è come te. È la Peugeot 205 Junior. Ha morbidi sedili, foderati in jeans. È questa l'auto giusta che dà lo sprint. E tutte le ragazze saranno tue fans. 205 Junior. Wow! 205 Junior, 10.530.000. Bianco Standa, c'è l'occasione per rinnovare il corredo di tutta la casa. Ma sta zitto piccione, non è vero nulla, vai! E invece, se è vero, guarda, lenzuola. Benissime. E poi abbiamo anche le spugne per il bagno. E poi abbiamo anche persino, guarda che roba, le tovaglie. Sì, ma vabbè, adesso esagirai, esagirai. Senti, tassiti. Non è vero, perché la Standa trovate tutto il bianco con lo sconto del 15 e anche del 50%. Ma non è vero, sono tutte mischerate. Yeah! Oh, riporto! Quando che vuoi, che vuoi. Vieni alla Standa. La Standa è casa tua. Bravo! Stai facendo un bellissimo lavoro. Pratico, guida completa al fai da te. Idee, consigli, soluzioni nei fascicoli a schede mobili. In edicola Sole 1000 lire, il primo fascicolo e il primo raccoglitore. e il grande concorso Black & Hecker. Pratico, una proposta di Agostini.